Ciao e benvenuti, sono Andrea di autosvezzamento.it e in questo video voglio parlare di cioccolata e caffeina. Uno dei motivi per cui la cioccolata viene considerata pericolosa è perché contenendo caffeina è eccitante. E' vero che la cioccolata, al pari del caffè, contiene caffeina perché cacao la contiene, ma in che dosi è veramente pericolosa? L'EFSA ha recentemente pubblicato un interessante documento intitolato Parere scientifico sulla sicurezza della caffeina, dove vengono discussi alcuni aspetti della caffeina e dei rischi legati a un suo consumo abituale. L'EFSA è l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fornisce consulenza scientifica sui rischi associati alla catena alimentare. In questo caso gli è stato chiesto di produrre un parere scientifico sulla sicurezza della caffeina e sulle quantità di caffeina che è possibile assubere senza rischi. La caffeina si trova naturalmente in tutta una serie di alimenti quali caffè, cacao, tè, cola eccetera. Per questo motivo la ritroviamo in prodotti quali la cioccolata, le bevande a base di cola, bevande energetiche eccetera. Nello studio che ha condotto ha concluso che una dose giornaliera di caffeina di 3 mg per kg di peso corporeo non dà adito a problemi sia nei bambini che negli adolescenti, per cui ha proposto questo come il livello di sicurezza giornaliero. Ma quanta caffeina troviamo nei vari alimenti? Ci viene in aiuto questa schermata. E' ovvio che i dati sono puramente indicativi in quanto varieranno da marca a marca e a seconda delle materie prime utilizzate. Qui troviamo elencati una tazza di caffè americano ovvero il classico caffè lungo, una lattina di energy drink, un espresso, una tazza di tè, una lattina di coca colo simile, una barretta di cioccolato fondente da 50 grammi e una barretta di cioccolato al latte da 50 grammi. Per quanto riguarda questi ultimi due alimenti vediamo che la barretta di cioccolato fondente contiene circa 30 mg di caffeina mentre quella di cioccolato al latte ne contiene circa 10. Tenendo quindi presenti i limiti di 3 mg per kg di peso corporeo al giorno che è stato fissato scopriamo che i livelli di caffeina contenuti nel cioccolato non destano preoccupazione in quanto piuttosto bassi. Ad esempio se un bambino di 15 kg ingerisse una barretta da 50 grammi di cioccolato al latte o fondente al giorno i livelli di caffeina sarebbero ben al di sotto del limite che nel suo caso sarebbe di 45 mg al giorno. In altre parole a meno che non si mangino quantità spropositate di cioccolato difficilmente questa da sola farà superare il livello di sicurezza di caffeina e se così fosse i problemi sarebbero comunque ben altri. E' anche vero però che la caffeina può influire sulla durata e la qualità del sonno. In particolare dosi singole pari a 1,4 mg per kg di peso corporeo ovvero circa la metà di quella giornaliera ingerita in prossimità dell'ora di andare a letto possono influire sulla durata e sulla qualità del sonno. Quindi se abbiamo un bambino di 15 kg i 50 grammi di cioccolato al latte non destano preoccupazione dal punto di vista del contenuto di caffeina mentre dovrebbe limitarsi a circa 25 di cioccolata fondente. Magari per sicurezza evitiamo di fare una cioccolata calda con tanto cacao proprio prima di andare a letto. Nella maggior parte dei paesi il cioccolato che comprende anche le bevande a base di cacao è la fonte principale di caffeina per i bambini seguito da te e bevande alla cola. Inoltre nelle bevande a base di cacao la quantità di caffeina varia a seconda della quantità e del tipo di cacao usato dalle varie marche. Infine in Italia il consumo di caffeina da parte di bambini dai 12 mesi fino ai 10 anni è piuttosto basso e media ben al di sotto del limite giornaliero di 3 mg per kg di peso corporeo. In conclusione, per quanto possa sembrare strano o sorprendente, la presenza della caffeina non rappresenta un motivo sufficiente per non mangiare il cioccolato.